Buonasera a tutti, sono Luigi, un eracuse preferite e bentorni su The Nintendo Battle versione JAPE Global con l'analisi di PG Dioff. Dopo aver registrato le due analisi dei Great Siamen che mi hanno lasciato nello sconforto, sono felice che adesso tocchi a quella che per me è la migliore unità della nuova batch, ovvero Super Arts e poi Ultimate Arts, o come lo chiamo io, Dio Brando, stesso doppiatore. PG che davvero mi piace, ho trovato a milletti uno nel mentre cercavo Goku, il 200 stone alla fine l'ho trovato però preferisco aver trovato i due Arts. PG, non è un Dokkan Fest ragazzi, ma è a livello Dokkan Fest, seppur come vi spiegherò non siamo a Dokkan Fest recente. Meglio di Bardak? Meglio di Bardak, ecco. Probabilmente meglio di Bardak, però, e che a me proprio non piace minimamente Bardak, però siamo sotto anni luce rispetto a Gamma e tipo Goku. Andiamo con Ordine, 13.015 HP, 10.017 attacco, 7.244 di difesa, abiliti 3. Leader Dragon Ball Heroes o Time Traveler, scusate, per chi è 170%. 30% aggiuntivo a tutti i crossover. Ergo, se giochi Dragon Ball Heroes hai il 200% fisso, perché tutti i Dragon Ball Heroes sono crossover. Poi però per giocare anche i Time Traveler, che non sono per forza tutti i Dragon Ball Heroes, ma hanno alcuni PG simpatici e carini che si possono utilizzare per boostare, tipo Boja che può essere utilizzato come Buff, i Veget, hai delle alternative per fare dei Team un pochino più simpatici, che non prenderà tutto il 200%, ma funzionano. Ora, Arts ha due forme, la Super e l'Ultimate, che sono Cielo e Terra. Sono completamente opposte come utilizzo e tutto quanto, soprattutto nei primi 5 turni. Quindi analizziamole una ad una. Arts nella forma base, quindi appena inizia, a 150% attacco e difesa inizio turno, attacco e difesa 50% al lancio della Special, guardia per i primi 5 turni, quindi è come l'LR settimo anniversario, difesa 50% dopo che si attiva la guardia, 30% attacco e difesa e un Kiai Extreme, più 2 Kiai e 20% attacco e difesa per tutti quanti, diventando un buffer tra chi è 50% agli Extreme. Quindi voi, per ipotesi, per ipotesi, Arts nella forma base lo potete in realtà giocare anche come Floater, Buffer, in tutte le sue categorie, che dopo vedremo essere tante, ma davvero tante. Oltretutto, se tutti gli alleati sono Extreme, Crossover, standa tutti gli avversari, cioè media chance, quindi è un 30%, sì, 30% di standare tutti gli avversari, che è ottima, quindi sfonda anche le ruote. In questa forma, questa è la forma che più mi piace di Arts, in questa forma ragazzi non fa molti danni, carica 3-4 milioni massimo, ok? Quindi non aspettatevi 7-8 milioni che altri PCD non si riescono a fare. Però in questa forma è solido, in questa forma è tanto solido, il ROD soprattutto le spacca, il ROD le spacca e ragazzi funziona bene anche in Redzone, e parlo di Redzone pesanti. Ora, non l'ho fatta io, ma se andate sull'account Twitch, o non so se siete a caricare su YouTube di Blaziken68X, di Blaziken, gli ho fatto fare una run extreme contro il Metal Cooler Core, Arts è comportato perfettamente, l'ha vintasse con try, perché l'ha appena fatto giocare Arts, per divertirmi, da quanto cavolo fa schifo, però appena abbiamo giocato seriamente mettendo un sesto PG sensato, l'ha chiusa. Penso che funziona molto bene, 5% di buffer e tanto, con anche Gold Metal Cooler che dà ulteriore buff, ci è diventato un team molto potenziato il suo. Come se non bastasse, abbiamo un attacco di difesa aumentato a lancio della special con 50% di stunnare, che non è male, non è affatto male. E come dicevo, questa forma è quella che io prediligo, seppur per far danni necessita di trasformarsi. Come si trasforma? Se tutti gli alleati sono extreme? A partire dal terzo turno. Altrimenti a partire dal quinto turno si è ricevuto 5 più attacco. I due Arts possono linkare, rendendo quindi poi la turnazione Arts Ultimate, Arts Super, ottima. Cosa fa Arts Ultimate? Arts Ultimate è il contrappasso di Arts Super, quindi perdiamo un botto. Un botto di difesa, non dico che non tanca, ma fa fatica, con 3 ki e attacco di difesa 200%. Il secondo per cento attacco di difesa lancio della special che è tanto, scusate, lancia un additional special garantito se avete solo extreme. In più, se tutti gli alleati sono extreme crossover, 150% ulteriore d'attacco e toglie la guardia avversaria, quindi fa danno neutro anche agli AGL. Se poi il nemico ora è la Mongoda, critico garantito, no scusate, attacco super efficace, ma non stiamo a cagarci più di tanto perché sono pochi. La special ha alte chance, quindi un 50% di stun e aumenta di molto l'attacco Greatest Resist e la difesa di un pochino per un turno, che quando avete tutti extreme quindi ha un doppio aumento di difesa, che non è un gran che, non è un gran che. La cosa che però arriva al 350% di difesa è il 575% d'attacco. Questo qua tira anche i suoi 8 milioni, mi sembra di averlo visto a 10 milioni, abiliti full l'incante con se stesso, tranquillamente, anche per il 50% di bonus che gli dà la tua forma base, più che per i link. Ragazzi, è davvero tanta roba. È naturale, non siamo a livelli Redzone Broly, perché Broly è AGL purtroppo. La Redzone Core la distrugge. Redzone, venga, se la cava, se la cava, se il Max, eh, se il Max, venga, se un po' cosa faccio. Se il Max per farla bene dovresti utilizzare un piccolo bug presente nel gioco, ovvero arrivare a quinto turno, trasformare Arts e al quinto turno lui mantiene la guardia perché si è attivata all'inizio turno nell'altra versione. La... dico che tanti la special, penso che la special comunque lo ammazzi, però riesce a fare così interessanti e danni anche carini. Link, Brainiacs, Gentleman, Story, Support, Cold Job, B, 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 Shock, Speakers, Battle, peccato per i link che non sono proprio il massimo. Categorie Resurrected, Full Power, Transformation Boost, Time Traveler, Dragon Ballina, Super Battle Wiz, Crossroads, Space Traveler Wars e Accelerator Battle. Per quanto riguarda i linker, al meglio sarebbe giocare il doppio Arts per farlo linkare con se stesso. Se così non fosse, non solo linka molto bene con Silas, ma linka anche con un'altra unità che ho repito tra i miei del gioco, ovvero Cell, ma solo una volta che Cell arriva alla sua forma perfetta, parlo di Cell e Buaginelle. Anche se non sono molti modi per farli giocare assieme, cioè... che ti begliassi, eh, le Transformation Boost. No, Transformation Boost è in Traveler. Ci sono di base anche sotto la sua stessa leader. Può essere molto interessante con l'azione se volete il doppio Hertz che fa danno. Quindi ragazzi, questo a mio avviso è il miglior PG della match. Se dovete scegliere qual è il PG che se lo pullo potrò smettere di pullare lui. Per se hanno 4 Liberty Break, magari sono i PG Dokkan Fest, perché Hertz non è Dokkan Fest, ma valgono la metà di Hertz. Diobrando è entrato in Dokkan prepotente. Build critico, poi la potenziamo in additional, davvero non ve repentirete, grande unit, non capisco perché la gente lo reputi schifezza, solo perché o non tanca le special trasformato, o non fa 8 milioni di danni normale. Cioè è normale che non più 3 unit possono essere barate, ragazzi. Comunque davvero ottimo OGC. Tutto questo, noi ci vediamo alla prossima. Buona serata.